Buongiorno, ciao a tutti quanti. Sono uscita in live per farvi un annuncio importantissimo, darvi delle belle notizie, più che altro per i nostri sardi. Dal 2 di aprile avremo i voli diretti con Viseir da Alghero per Bucarest. Quindi tutti i pazienti che devono finire le loro cure in Romania possono partire tranquillamente con un volo diretto, non fare più scali e viaggiare molto più comodi con un volo diretto con Viseir. Allora, vi faccio vedere anche, stavo guardando un po' i prezzi, che per ora sono abbastanza ok, sono a posto, però ragazzi, per quelli che vogliono venire a inizio aprile, ricordatevi che c'è Pasqua, quindi i prezzi dei biglietti aumenteranno, quindi dovete assolutamente iniziare già a comprare. Certo, però dovete prima verificare il link dei viaggi di gruppo per vedere le disponibilità, più che altro che abbiamo. Io nella descrizione del live vi lascerò il link dove voi potrete andare appunto a vedere le date disponibili e a vedere la disponibilità. Comunque, la cosa che volevo farvi vedere per quelli che viaggiano da Alghero per Bucarest, i prezzi per ora sono abbastanza ok. Vi faccio anche vedere che ho fatto un po' di ricerche, spero che vedete, per esempio, questo volo del 2 aprile da Alghero per Bucarest, un prezzo standard, senza la valigia, senza le tasse, 25 euro solo per andata e così via anche per le altre date, quello più, diciamo, con un prezzo più alto che ho trovato, intorno a 60 euro. Quindi, devo dire che per i nostri amici tardi sarà molto facile raggiungere la clinica di Bucarest oppure quella di Brasov, perché comunque avete sempre il trasferimento da Bucarest a Brasov, finché non aprirà appunto anche l'aeroporto di Brasov. Allora, inoltre, ho fatto anche delle ricerche per Chisinau, per quelli che devono venire appunto a Chisinau. Abbiamo anche qua degli prezzi, diciamo, abbastanza ok, però questo per ora, perché sapete che prima delle feste i prezzi aumentano tantissimo, questo da Bologna stanno sempre su 100, 100 qualcosa euro solo andata, quindi già per fare un'andata e rientro vi andrà a costare sempre di più. Quindi, ragazzi, mi raccomando, dovete iniziare appunto a organizzare il vostro viaggio per quelli che devono ancora iniziare le cure oppure quelli che devono finire le cure oppure quelli che devono fare solo i controlli, i controlli finali. Quindi, vi consigliamo assolutamente di comprare in anticipo, perché i prezzi veramente saliranno alle stelle. Che altro vi posso dire? Noi staremo qui ad aspettarvi, vi lascerò il link appunto per i viaggi di gruppo, così potete consigliare le date e vedere le disponibilità che abbiamo sia a Chisino che in Romania e inoltre vi voglio ricordare anche del programma settimanale delle attività che quasi tutti i giorni abbiamo delle visite, delle uscite in gruppo, domenica si fa sempre la giornata, tutta la giornata fuori, possiamo iniziare di nuovo a fare il giro in Mongolfiera quindi quelle che sono interessate, basta quando venite qua che chiedete a noi e noi vi organizziamo tutte le esperienze che volete avere uguale anche per la Romania, sia a Bucharest che a Brasov, lì ci sono i ragazzi che vi organizzeranno le attività. Allora, un altro reminder, ragazzi dovete comprare i biglietti adesso e dovete organizzarvi adesso perché in prossimità della festa di Pasqua i prezzi saliranno tantissimo, quindi un consiglio da noi, comprate adesso perché tutti cominceranno ad andare in vacanza e sapete che le compagnie aeree di solito, quando ci sono delle feste, iniziano sempre a alzare i prezzi. Un'altra volta, per i nostri amici sardi, vi ricordo che se dovete andare in Romania potete avere il volo diretto da Alghero. Per ora tutto qua, ci vediamo a Chisinau, vi auguro un buon viaggio e vi lascerò qua il link dove potrete andare a consultare le date e andare a comprare i biglietti. Un saluto da Chisinau, ciao ciao!